Grazie a tutti, a tutti i tifosi, perché come sempre mi sento anche qua come allo stadio, perché c'è tanta passione, c'è tanta amore per Napoli, questo è qualcosa che le altre parti d'Italia lo ritrovo, allora per questo sono contento di questo, e vorrei ringraziare davanti per non mi aspettare mai niente, per me sono molto guardato di essere un cittadino di Taurano e di far lavoro per la pubblicità. Mare, mare! Ode, ole, ole, ole! Mare, mare! Grazie.